Nonostante a pelli e maggiore sensibilizzazione rispetto al tema dei botti, nel primo giorno del 2018 c'è la consueta conta di danni e feriti, danni immateriali alle città che si leccano le ferite per i tanti, botti sparati in luoghi improbabili come cestini della spazzatura o cassette della posta o addirittura autovetture, ma anche danni permanenti o meno per gli uomini. In Puglia in totale sono stati 19 i feriti registrati per lo scoppio di petardi. Nella Batti in particolare si sono registrati 5 feriti, il più grave è a Canosa e si tratta di un 13enne ricoverato d'urgenza al Policlinico di Bari con ferite alla mano e ad un occhio che rischia di perdere dopo lo scoppio di un grosso petardo. Gli altri feriti in provincia invece sono più lievi e si sono registrati due a Minervino Murge, uno ad Andre ed uno a Barletta. In particolare dal comune Murgiano, prima un ragazzo di 16 anni e poi un trentenne sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso del Bonomo per loro problemi alle mani, agli occhi e ad un piede, sempre alla mano invece le ferite riportate gli altri due feriti. Tutti in realtà hanno una prognosi che va dai 10 ai 30 giorni, tranne il 13enne Carosino che resta ricoverato a Bari. Nella città di Andria poi un incidente stradale in via Bertrando del Balzo ha caratterizzato l'alba del comune federiciano. Auto ribaltate, quattro giovanissimi feriti in modo lieve ma trasferiti tutti in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Per il resto nelle città, suoli di residui, di botti di fine anno, se risultano dar colore attorno a mezzanotte, soprattutto i fuochi d'artificio, davvero inspiegabile ed inutile lo scoppio di petardi sempre più potenti. A Trinitapoli per esempio ha scelto l'ausilio di un artificiere per bonificare le strade cittadine nella mattinata del primo dell'anno per evitare nuovi scoppi con gli operatori ecologici impegnati nel ripulire strade e marciapiedi. Naufragate come più o meno ogni anno le ordinanze antibotti dei vari comuni, vista sia la libera vendita effettuata praticamente durante tutto il giorno del 31 dicembre con diversi banchetti stradali un po' dovunque, e sia per la difficile se non impossibile applicazione da parte delle forze di polizia locale. Ma passando alle belle notizie di inizio 2018, la prima nata della BAT è una bellissima bambina di 3,36 kg di Trinitapoli, partorita naturalmente a Barletta alle 00.10. Si chiama Iuliana Liliana Zaria, di origini rumene, ma la sua famiglia ormai risiede da tempo a Trinitapoli ed è una primogenita. Alle 2.10 poi ad Andrea è nata invece Desiree Fiore, quarta figlia. Anche lei è nata con parto naturale e pesa 3,17 kg. Grazie a tutti.